Start, 2, 1, Mystery Mission and Liftoff! A 35€ ed è un gioco che non vedremo nella sua interezza in video. Vi rimando al trailer bellissimo che c'è su Steam da vedere, che vi fa vedere sia queste mongolfiere, sia la navigazione, sia un sacco di altre cose. Quello che voglio farvi vedere è come funziona. Allora, il gioco in pratica è un gioco, non è single player, ma sarebbe una sorta di survival MMO, che unisce più generi, che ha dei server ufficiali di gioco, che sono questi, giocabilissimi perché con i 1000 secondi ci siamo, 23 e 35, quindi è giocabilissimo. Questi sono i server ufficiali, poi potete entrare nei server, nei 1000 server, e la cosa interessante è che ci sono i server PvP ma anche i PvE, quindi non è RASTA che vi spianano, ma io, ma io, gioco da solo, giusto per farvelo vedere, nel mio server. Quindi, carico la mia partita, carico il save, che è quello che avete visto sulla destra, e vado a caricare la partita. Ovviamente, il gioco ha degli NPC, ma non è come Unshrouded, che è previsto che uno se lo giochi magari da solo, o con una cerchiera ristretta di amici. Qua si parla di un campo molto molto più ampio, un mondo molto molto più ampio, ed è il motivo per cui io tenderei a sconsigliarlo a chi, come me, magari pensava di giocarlo in singolo. Il gioco ha tantissime potenzialità, adesso poi appena finisce di caricare le andremo a vedere, perché si parla di un ampio, un ampissimo crafting, la possibilità di allevare, far crescere gli animali, di coltivare, di costruire appunto i mezzi anche per volare, i deltaplani e le navi, e costruire le città. Quindi, essendo un gioco comunque anche basato sulla Cina, quindi sull'Oriente, e essendo un sviluppatore anche di quella zona lì, si parla molto anche di commerci, quindi il trasporto di merci da una parte all'altra per poter comunque guadagnare qualche soldo. Ora ci troviamo all'interno della mia partita. Sono andato in esplorazione, insomma sono arrivato qui, dove ho cercato un pochino di vedere come funzionava il mondo. Non è assolutamente male, calcolando che vedete comunque tutti i riflessi nell'acqua, ci sono gli alberi che quelli in lontananza vengono un pochino fumettati, insomma vignettati come si definisce, e ho tutte le mie armi adesso equipaggiate per poter tagliare alberi e fare varie cose. Anzi, tra l'altro mi sa che ce li ho tutti danneggiati, comunque, credo di averli tutti danneggiati. Adesso io vorrei tornare indietro, tornare alla mia fase iniziale, dove vi faccio vedere, anzi dovrei forse, teletrasporta, ok, e sono tornato qua. Questa è la mia zona iniziale, dove io ho iniziato a craftare e crearmi questa piccola base su questo piccolo altopiano. Qua io posso andare, adesso qua la ghicchia un po', posso andare ad aprire l'inventario e fare il mio crafting, quindi scegliere le varie cose, mettere il materiale per la fabbricazione, in questo caso questo è il pesce già cotto, questa carne ad esempio, e vedete che mi si attiva, io posso andare a innescare il fuoco e cuocere la carne, quindi clicco col destro, fa crea uno, lui attende il suo tempo, crea la carne e la mette qua. Probabilmente io adesso sono morto e giocando a difficoltà facile mi rinasco sul posto e probabilmente tutto il mio equipaggiamento si è danneggiato, perché non me lo fa più scegliere, quindi, o probabilmente l'ho perso, non lo so, comunque, poco male perché lo possiamo rifare. Vedete che qua abbiamo, allora adesso vi faccio vedere il menu perché è una delle cose più importanti del titolo, col tasto tab possiamo passare da un utensile all'altro di questa barra qui. Premendo i abbiamo tutto quello che si può desiderare in un gioco. Allora, come tutti i giochi orientali qua vedete ci sono le tossicità dei meridiani, le tossicità gastrointestinali, le tossicità corporee dovute ai meridiani, tipo tipica cosa orientale, ci sono anche in altri giochi. Qua possiamo vedere lo stato di nutrizione del nostro corpo, insomma, se mangiamo qualcosa di crudo e non ci fa bene, insomma, e così via. Qua abbiamo tutto il crafting, qua abbiamo tutto il menu, l'inventario. Possiamo dividere per sezioni le varie, e vedere appunto le varie, le armi piuttosto che le esche da pesca e così via. Io adesso vorrei andare a fare, giusto per farvi vedere due cose, la, questa. Ho i rami, ho i detriti che sono volgarmente le pietre, ne creo due, perché me ne servono due, credo, creo, e lui inizia. Ne ha creata una, e adesso crea l'altra, e a breve diventerà, infatti vedete, cliccando con il destro, posso crearne più di una, crearne una. E viene messa qui in automatico in elenco di creazione. Adesso la creo, qua ricomparirà visibile, infatti vedete che torna visibile perché ce l'ho. E quindi adesso io posso equipaggiarla e andare ad abbattere. Allora, a livello grafico è veramente bellissimo. È l'unica cosa, la caduta degli alberi, insomma, un po' me. Farete un abuso, vedete qua anche il coniglio che è maschio, quindi si potranno fare accoppiare gli animali. C'è un abuso, dicevo, del tasto E, perché quando passate sopra anche solo la minima cosa nascosta nell'erba compare la E, e quindi qui potete raccogliere ogni genere di cose, dalle fibre, dalle foglie, il lino di bassa qualità e così via. L'aspetto grafico, dicevo, è molto bello perché si vedono in lontananza dei panoramie enormi, e questa è la mappa. La mappa di gioco, che è veramente enorme. Ovviamente io ho esplorato un pochino, qua ci sono dei villaggi anche di PNG, PNG, campo neutrale pirata, quindi qui potete commerciare, ci sono dei PNG dove commerciare, ci sono dei campi dove potete assumere le persone, pagandole una magari chiede cibo, una chiede soldi, una chiede altri materiali. E quindi potete, come Age of Conan, lo chiamo Age of Conan, ma in realtà è Conan Exiles, scusatemi, e potete reclutarli e metterli a lavorare per voi. Però non è un gioco secondo me single player, ma se qualcuno di voi lo sta giocando single player e lo trova godibile, trova qualcosa che io non so, tipo la presenza di città che non mi pare proprio di aver visto, perché è un gioco che si presta alla colonizzazione dei giocatori, mi faccia sapere. Quello che io credo su questo titolo è che essendoci dei server PvE si possa giocare in completa armonia con i giocatori. E il fatto che ci siano proprio dei server ufficiali vi dà un pochino più di certezza, perché almeno non giocate su un server di un tizio che poi lo chiude e perdete tutto. I server ufficiali ci sono qui due lì, quindi non ce ne sono mille, quindi potete andare anche a fare due prove. Vi presento a grandi linee adesso tutto quello che è il menu, e poi proviamo magari a entrare e vedere un attimino come funziona il server. Comunque, qua abbiamo l'inventario, dicevamo, quindi qui la possibilità di vedere o meno l'abbigliamento. Abbiamo il talento e le abilità, questo è molto bello perché qua possiamo andare a spendere dei punti che noi guadagniamo, potenziando, potenziando questo sale, e miglioriamo l'efficienza di questo settore, perché c'è a una mano, scudo, due mani e così via, divise poi anche c'è agilità, proiettile, arco, il fisico, l'intelligenza e così. Qua potenziamo il guadagno, mentre qua potenziamo le abilità, quindi andiamo a potenziare, in questo caso non lo posso fare, praticamente quando le potenziamo, adesso dovrei farvelo vedere, vedete che si riempie questa barra bianca qui, quando raggiungiamo questi obiettivi qui, diventano nostri, quindi arrampicata sulle pareti, vedete in questo caso l'ho preso, e ho preso anche questo, quindi posso crearmi dei rampini per arrampicarmi sulle rocce, e così via anche per gli altri, quindi quando adesso qui spenderò un altro punto, e non ce l'ho, raggiungerò questo e migliorerò la precisione dell'arco. Così abbiamo quindi cinque sezioni divise per ognuno cinque settori, quindi gli edifici, le armi e così via. Qua abbiamo un'altra cosa, le ricette di fabbricazione, spendendo i punti qua in fondo, i punti ricetta, possiamo andare a ricercare dei nuovi oggetti da costruire, ce ne sono un'infinità, guardate quanti, ma soprattutto abbiamo guardato solo il banco da lavoro e strumenti, ci sono gli edifici, ci sono le armi, ci sono le armature, ci sono gli attrezzi per addomesticare, un'infinità anche qui, cibo e medicine, i veicoli, quindi c'è la carriola, c'è il carretto e così via, edifici decorativi, edifici di trappole. Ovviamente un grande ostacolo, dite, ma perché non lo gioca nessuno, non ho mai sentito parlare? No, il gioco è figo, ma se odiate comunque tutta questo tipo di, la chiamerei tipo di stile di gioco, nel senso che le case non sono medievali, sono orientali, qua abbiamo la gilda, con la possibilità di creare la gilda, le missioni, le missioni ce ne sono un botto, che sono tutte quelle di tutorial all'inizio, è tradotto un po' così così, perché alcune cose molto bene, altre cose molto male, tipo le side quest, qua è lato, side è lato, e sono le missioni secondarie. Ci sono degli eventi, trovate quelli a tempo limitato, e così via. Invia, questo non so cosa sia, ah, devo arrivare probabilmente in alcuni punti, ok, questi sono i nostri subordinati, divisi per guerrieri, le monte, quindi i cavalli, delle bestie, non so cosa sia, veicoli acquatici, e questo è un'altra cosa di edificio, ma non so cosa sia. Le arti, le arti questa è un'altra cosa, ma non ho idea di che cosa sia, nel senso che ci sono delle arti che salgono andando avanti, ma non credo di averne fatta nessuna di queste. I risultati sono tutto quello che abbiamo ottenuto, a livello di potenziamenti, abbiamo la nobiltà, e questa è importante perché noi, penso anche in base a quante persone possiamo reclutare, questo dipenda dal livello in cui siamo, si parte da plebeo, si sale, si diventa fino a gran principe, sempre seguendo la cultura orientale. Il territorio non ne possediamo al momento, il tronco credo sia il log, quindi qui è quello che io ho fatto ultimamente, sono stato abbattuto dal leader dei razziatori, tutto quello che ho fatto l'altro giorno. Questi sono gli eventi, ma non posso farli perché non ho gilda, e qua c'è il negozio che sono estetici, componenti estetiche, e qua abbiamo tutti i tipi di armature, vedete che si caricano dopo un secondino, però sono bellissime, e tutti i tipi di vestiti in base al tipo di ruolo che si va a rivestire, questa per chi ama la cultura orientale cinese è un gran gioco, perché se guardate qua, guardate che spettacolo, ma la cosa che farò adesso è provare a vedere un attimino come funziona il server ufficiale, quindi attendiamo un secondo e andiamo a vedere come funziona. provo a entrare nella rinascita di un impero, serve di gioco ufficiale, classico, fase di test, ufficiale 1.0, no, facciamo questo perché il gioco è uscito in 1.0, che c'era già da un po', quindi proviamo quello, attendiamo una volta che viene creato il personaggio. Allora di questo non mi interessa più di tanto, perché potete crearvi il vostro personaggio con il tipo di capelli, il tipo di barba che volete, ma non mi interessa più di tanto, voglio andare avanti, lo chiamerò Indie, e attendiamo il caricamento della partita, username già esiste, quindi gameply, inizio la partita, quindi adesso attendo anche qui che venga caricata, e vediamo all'interno cosa succede. Ecco qua, siamo nella regione, ah, pensa a te, questo non l'ho mai fatto, praticamente io posso andare in una zona, regione Asia, posso andare qui, ah ok, qua ci sono dei sottoserver, delle contee, e posso andare nei pwe, vediamo un attimo se ho modo di andare in qualcosa di, con pochi millisecondi, zero millisecondi, europeo, pwe, andiamo qua, la contea di pwe di Julu, partecipazione rapida, ok andiamo lì, quindi è un server che contiene altri server, divisi proprio per regioni, ma su una mappa, diciamo non mondiale, ma comunque regionale. Ora, attendiamo nuovamente il caricamento, una delle note negative è che i punti di teleport, che ci sono, sono in cinese, però vabbè io adesso parto da qui, dove eravamo prima, considerato per le mie armi, dovremmo utilizzare una modalità principiante, sì, qua scegliamo il tipo di combattimento, se quello è raccomandato o meno, e qua tecnicamente quello che noi facciamo è tutto in un mondo persistente, quindi ci saranno altri giocatori con cui potremo comunicare, c'è la chat sotto, c'è la contea, dove possiamo andare a, e intanto vediamo che qualcuno ha già iniziato a costruire, una delle figate di questo titolo può essere il fatto di muoversi, e trovare magari la città di qualche utente, e di unirsi a lui, a lui, se è una comunità, o ancora meglio trovare degli amici e farsi un villaggio, comunque questa è già una zona edificabile, perché poi ogni tanto si entra in delle zone non edificabili, e il gioco ce lo dice, comunque questa è una zona di un utente, presumibilmente, perché qua il portone sarà sicuramente chiuso, Siberia, ok, è dentro l'Eltizio, sì, è la sua casa questa, ha già dei cavalli, però non c'è il PV, non è una contea PVP, quindi non è che ci possono uccidere in giro, va beh, no, non c'è lui, ma c'è, no, lui c'è e dorme, come succede in Rust, o in altri giochi simili, eccolo là che dorme, là dietro, va bene, e quindi qui abbiamo trovato questo, quindi non gli possiamo fare niente, io credo che non si possa nemmeno attaccare, no, no, non credo, sì, lui è lì che dorme, sì, non si vede, e un'altra cosa che non vi ho detto, nel combattimento vedete che c'è questa freccia bianca in alto, perché possiamo scegliere anche la direzione del colpo, quindi a livello di combattimento non è proprio così banale, ma è ben strutturato, quindi quello che noi facciamo ora adesso, è andare a, raccogliere cose, se ce la raccogli, sto già iniziando a raccogliere le prime ricette, e possiamo andare, ah, qua ci dice già di andare a prendere una competenza, tagliare legna, e spendere i punti qui, competenza in questo, posso già spendere i punti, io prendo punti competenza, due ne ho soltanto, ok, e quindi dovrei farlo in modo un po' più efficiente, intanto sto sempre raccogliendo rami per terra, perché ce ne sono anche se non si vedono, molto importanti i cespugli, non posso credo, ok, vediamo dall'inventario qui, posso farmi la corda, posso farmi la cetta, la cetta mi chiede due corde di paglia, quindi io creo più di una, ne creo due, una e due, e adesso posso fare la cetta, quindi come avevamo fatto anche prima, me la creo anche qui, intanto posso muovermi, sì, è esattamente dove eravamo prima, sulla mappa, io vedo delle zone, beh bene o male sono, non ho ancora visto niente, però c'è un'altra zona di partenza, qua sotto mi pare, o forse anche qui, però non vedo nulla, di quello che hanno fatto gli altri, gli altri giocatori, ma qui c'è un tizio che dorme, però vedete che non posso attaccarlo, il gioco si può giocare anche in prima persona, un po' alla Kingdom Come Deliverance, ma non lo so, se lo si presta bene anche per la terza persona, comunque vedete che io ho completato la missione, seleziono l'abilità, premo X e prendo esperienza, a quel punto il gioco mi dice raccogli erba, allora raccolgo erba, una volta che avrò completato anche quella missione, premerò X, mi darà esperienza per salire di livello, con il doppio clic me l'equipaggia già, quindi io già premendo l'uno, ho la mia accetta e vado ad abbattere gli alberi, qua c'è una casa di un tizio, non credo di poter costruire dove voglio, o almeno avrò un piccolo territorio, ma intanto vediamo un attimo, lui ha la sua casa qua, ma io non credo di potergli apparire nulla, scrigno di legno, ah no, il calcio teatro, tutto bene? Sì, credo di sì, sì, comunque non credo, escono le scalfiture sul, sul forziere, ma credo di non, ma qua mi sa tanto di qualcuno che ha, beh livello 15, no non ci vuole niente a fare livello 15 in effetti, di qualcuno che ha preso il gioco, l'ho provato, l'ho giocato due minuti e poi ha smesso, visto che non ha completato neanche la casa, comunque può essere interessante, se avete qualche amico con cui giocarci, calcolando che io da questo tipo di giochi, io sono sempre fuggito, a gambe levate per l'alto numero di lame, l'alto numero di persone ostili, ma questo è uno dei pochi giochi che visto così, poi attendo sempre un po' sto parere qua sotto nei commenti, non mi sembra così cattivo, anzi incentiva anche alla cooperazione, poi ovvio che magari può esserci una zona ostile a un'altra, ma in linea di massima, in PvE si sfida l'ambiente, qua ha belline anche le strutture, perché sono, qui c'è una sorta di fonderia, e qui ci sono dei, ah ok, questi sono dormono, questo è invece attivo, chiunque mi dira qualcosa di meglio, può essere il mio signore, e si vende per niente, no questo è un servo che sta probabilmente lavorando, ma non fa nulla qua, e la casa è veramente carina, peccato gli manchi la porta, sì non è elutabile niente, perché ovviamente è tutta roba privata, però è bellino il fatto di avere la fattoria qui, con tutta la vista sul bellissimo ambiente, ed è una regione solo vostra, quindi ve la potete mettere dove volete, quello che penso io adesso, non so neanche quanto si paghi, sarà da approfondire un po', ma a me onestamente sembra molto, molto, molto intrigante come gioco, non vi dico che lo giocherò, perché quello bisognerebbe per tante cose fare solo quello, giocare solo a quello, specializzarsi solo in quel gioco lì, e soprattutto avere una community, e dove c'è da fare community, spesso noi italiani non siamo i più coesi del mondo, però, però è interessante, sarebbe anche da capire, se qualcuno di voi, ripeto, lo sta spolpando, se è giocabile da solo, nel senso che io posso entrare, farmi le mie cose, e poi magari andare, comprare da altri giocatori delle cose, e andare avanti per i fatti miei, se questo è fattibile, potrebbe essere un gran bel gioco per me, sì le case sono molto spoglie qui, quella casa è inguardabile, assolutamente inguardabile, e qua piazzano un po' dove vogliono, perché poi c'è il teleport, che vi scala credo dei soldi, questo sembrano gli edifici del cinema finti dietro, o un patibolo, non so come volete, sì, tasso di decadimento naturale 2% all'ora, lo standard del territorio può prevenire decadimento, però non ha messo il decadimento, quindi questa qui probabilmente è una struttura che decaderà, ragazzi, io concludo qui, fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, e ci sentiamo in un prossimo videogameplay, alla prossima, ciao ciao!